La scala è tutta la scala, la scala è tutta la scala. La scala è tutta la scala, la scala è tutta la scala, la scala è tutta la scala. La scala è tutta la scala è tutta la scala, la scala è tutta la scala. La scala è tutta la scala, la scala è tutta la scala, la scala è tutta la scala. Abbiamo deciso di girare tutta l'Italia per fargli vedere tutte le nostre bellezze. Costeggiamo l'Italia da sinistra, scendendo dall'Adriatica. Abbiamo fatto Bari allo spunto di Matera, Matera al Veronello, da Brindisi fino a Reggio Calabria. Tutta la costiera dell'Astromonte è meravigliosa. Adesso stiamo girando tutta la Sicilia per poi rientrare in Italia facendo la costiera amalfitana e a metà strada tagliare tutta l'entroterra della Toscana su fino a Norcia e via via Sisi, Bubbio eccetera eccetera. Insomma un viaggetto di circa 7-8.000 km. Ci sono voluti 60 anni, entrambi le mogli 14, i figli grandi che ha usciti di casa e noi un tempo. Noi questo incontro così piacevole tra i motori. Abbiamo anche il nostro Nino che ha collaborato con un impegno per la realizzazione di questo pannello e poi vi ricordiamo quell'albero che crescerà. Quell'albero è stato messo con l'albero di arancio. L'albero di arancio. L'albero di arancio. L'albero di arancio. Crescerà per ricordare l'assessore. Lo prendiamo un po'. Per ricordare tutti gli grandi uomini che hanno fatto grande la Formula 1 aiuta. L'albero di arancio. L'albero di arancio. L'albero di arancio. L'albero di arancio. L'assessore all'agricoltura del comune di Gerela. Questo incontro è in diretta. Io mi spesso mi sono. In diretta. Andiamo a vedere l'albero. Così l'assessore all'agricoltura vi spiega un'altra delle situazioni. Qua siamo all'albero di arancio. L'assessore spiegherà una iniziativa che lui da qualche giorno ha messo in atto. Allora, previsione della giornata internazionale della festa dell'albero il 21 ottobre. Ogni 21 del mese metteremo un albero o 8 alberi contemporaneamente. Per, diciamo, aggiornarci con molto più... Incrementare il parco urbanistico di fiori, di alberi... La ribera. E il simbolo di ribera che è l'arancio. Le arancio. Le arancio. Le arancio. Le arancio. Le arancio. Cercare di mettere quanto più alberi di arancio possibili all'interno del nostro paese. Il mio amico ci sia a Gertre. Tantissimo. Non ci credeva neanche lui. Quanti arance, presso il resto, ci hanno ballato. Andiamo a Rivera e ci siamo arrivati. Questo è il periodo che è già praticamente finita. E' quasi in finitura la Zagara. E sarebbe il fiore dell'arancio. Noi salutiamo, così la mettiamo nella nostra pagina, salutiamo i nostri amici su Facebook. Ok. Grazie. Grazie a Nino. E ritorneremo sicuramente perché insomma il paese merita. E ringraziamo Tottor Castelli e il nostro operatore, il nostro videometro. Ah, il videometro. Grazie. 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 Grazie.